Sono partite Greta Fiorentini in uno, Rebecca Girotto in due, Carlotta Tassotti in tre, Milena Brea in quattro, Sara Minello in cinque, in sette, Esperanza Perencin in otto, Adelaide Toso Assente De Stefani in sei. Per la prima serie femminile sono alla partenza Giorgia De Massa Micheluto, Città Sport Vicenza in uno, Letizia Zanin, Idros in due. La campionessa italiana giovanile in carica dei duecento, quattrocento e ottocento stile libero, Vittoria Grotto, Veneto Banca, Montebelluna in tre, corsia quattro, campionessa italiana giovanile dei cinquanta stile libero, Giorgia Perrotta, Idros, quinta corsia Valentina Rigo, Leo Sport, in sesta Giulia Benvenuti, Sport Management, in corsia sette, Ottavia Benazzoli, duemila e uno team, in otto, Matilde Guglielmo, President Bologna. Intanto l'arrivo con Carlotta Tassotti, uno zero otto e sessantaquattro per lei, ufficioso.